Informarsi sul coronavirus è importante. La Regione Puglia ha attivato un numero verde gratuito e un sito internet dedicato. Su regione.puglia.it barra coronavirus ci sono notizie, aggiornamenti, numeri utili, comportamenti da seguire. Se sei transitato dalle zone focolaio, sul sito troverai il modulo di autosegnalazione da compilare e inviare agli indirizzi indicati. Quindi, chiamando l'800-713931 potrai chiedere quali sono i sintomi, come comportarsi, a che rivolgersi. Il numero è attivo tutti i giorni dalle 8 alle 22. Semplici operazioni, ma fondamentali per noi, le nostre famiglie, gli amici, i colleghi di lavoro. Informarsi e sapere cosa fare è un vantaggio per tutti. Grazie. Grazie. Grazie.